buongiorno ragazzi bentornate sul canale un'altra volta lei è Elena, ciao è mia cugina ed è mia cugina da Pisa allora prima prima di inquadrare piazza dei miracoli siamo a piazza dei miracoli sono a piazza dei miracoli e niente al posto di dirvi soltanto siamo qua a farci un giro insieme ho detto vi faccio vedere qualcosa di costruttivo alle ragazze e quindi vi ha portato in piazza dei miracoli adesso giriamo la telecamera qua abbiamo battistero il duomo e la torre e quindi niente mi sembrava carino portarvi portarvi qua io sono a Pisa perché ieri sera abbiamo avuto il matrimonio della cugina di una delle nostre cugine però appunto di qua e siamo abbastanza demolite io sono completamente struccato meglio con gli occhiali da sole andiamo a farci un giro colazione e poi purtroppo ci dobbiamo salutare ciao ragazza un bacio grande come si stacca? l'inutilità del video non riesco a staccare ciao